Il giorno 12 settembre 2019, guardare quella montagna lì, stupenda, guardare il lago, sono il lago cosiddetto Novate Mezzola, si chiama così. Sono arrivato da questo paese, ho fatto tutto il percorso fino a raggiungere l'altro paese successivo, Campo Mezzola lo chiamano. Ora questa bella strada di una volta dietro la galleria che mi porta esattamente alla stazione di Vercea, ecco qua che raggiungo a piedi e vado di qua verso la stazione di Vercea dove ho il treno che mi porta poi a Collico, poi Collico, cambio, c'è il treno per Milano. Ora voglio fotografare questo stupendo paesaggio sperando che non mi cada lo smartphone nel lago e devo dire che là di fronte a me che non si vede nascosta dagli alberi c'è una piccola chiesina, la chiamano chiesina di San Fedelino, la chiamano così. E si può raggiungere quella chiesa esattamente in due modi, partendo dalla fermata del treno di San Molago o facendo un percorso dalla parte opposta di questo lago, oppure c'è addirittura al chiostro dove sono passato via una barca che porta le persone dalla chiesina di San Fedelino a Novate Mezzola, dove c'è costo, ma il costo è un po' eccessivo di questa barca, 10 euro andare e 10 tornare. Comunque la prossima volta mi interessa scoprire quella chiesina lì e poi devo dire che mi trovo adesso in questo reverbero d'acqua, di sole, acqua che mi brucia perfino la cavezza. Devo dire che oggi fa tanto caldo, fa tanto caldo e mi sono riparato dietro una pianta qua di fichi. Devo dire che è stata una bella giornata, poi ho scoperto tante cose, Sammo Olacco, dove c'era stata l'inondazione il 12 giugno 2019. Sì, proprio quest'anno dal fiume Codera, chiamato così fiume Mera, c'è stato un violento temporale in alto e ha portato giù tantissima acqua dove è inondato parte del sentiero laterale della sponda del lago. Anche un metro di altezza il sentiero ha superato, pieno d'acqua. Infatti sono andato a vedere il parco gioco, giochi di bambini, ci sono tutti gli alberi secchi trasportati dal lago per l'inondazione di tantissima acqua. È successo tutto in un giorno, il 12 giugno e devo dire che qua ora sono in una quieta tranquilla, in un riposo assoluto. Mi piace questa atmosfera calma. Il terrore è sempre la paura dei temporali. È successo un giorno, quella data lì, dopo tantissimi anni. Comunque non è successo niente di grave. Proprio quel giorno è successo anche a prima luna in Valsassina, dove avevo la casa due anni fa in affitto. Proprio un violento temporale che ha colpito la zona Sammo Lago e a prima luna. Devo dire che oggi ho fatto quasi tre chilometri a piedi lungo questa passeggiata lacustre e mi piace, mi sono divertito. C'era una temperatura di 30 gradi. Io, sebbene con i pantaloni di velluto, ho affrontato la temperatura, il caldo. Adesso pian pianino mi dirigo verso la stazione, come ho detto prima, di Vercea e ho il treno che mi porta a Colico. Saluto tutti i miei amici ascoltatori di YouTube e le persone che ho conosciuto, che abitano a Novate Mezzola. Non dicendo i nomi, con lo YouTube posso salutarli. Poi sono passato nel paesino di fronte e ho visto un accenno oggi, cioè non è un accenno, un fine estate, pienamente estate, come in agosto. Una temperatura alta, dove dalla mattina dei 14 gradi si passa poi ai 30 gradi, dove erano prima nel fiume Mera a fare il bagno certe persone. Vi saluto dal lago di Novate Mezzola. Proseguo il mio cammino. Dopo la stazione di Vercea c'è Dubino e Dubino si arriva al Pian di Spagna. Devo dire che il Pian di Spagna è noto per la grande flauna e flora che c'è in quel Pian di Spagna, che praticamente è l'intervallo tra il lago di Mezzola e la fine del lago di Como, dalla parte di Colico. Vi saluto da questo YouTube informativo. Spero di essermi spiegato bene, anche se ho imparato tutt'ora, in un'ora, tutte queste cose tramite le persone che ho incontrato. Vi saluto da Aldo YouTubista.